Una sedia bianca di bassa qualità dai cinesi costa 7,99€, uno sdraio 39,90€ oppure scontato 29,95€, un tavolo ovale 29,99€ scontato 24,90€, qualità medio-bassa, sedie bianche da giardino dai 5,99€ agli 8,99€ minimo. Invece con mezzo litro di RS bianco rinnovi circa 12 metri quadrati di plastica bianca pulendola al meglio possibile dallo sporco assorbito e dall'ingiallimento dell'invecchiamento. Con in più un'azione protettiva di lunga durata d'effetto, l'applicazione del prodotto richiede una piccola manualità e di seguire i consigli per l'applicazione per ottenere il miglior risultato possibile. Ma ti permette di risparmiare denaro rispetto alla sostituzione, di non dover uscire per andare a comprare sdrai, tavoli e sedie nuovi che dopo essere stati esposti un'estate al sole sarebbero comunque rovinati e di non dover andare in discarica a smaltire quelli vecchi. L'applicazione di RS bianco ha anche una funzione tecnica per evitare che la plastica invecchiata e indebolita si rompa. L'applicazione di RS bianco ha anche una funzione tecnica per evitare il miglior rispetto alla sostituzione. L'applicazione di RS bianco ha anche una funzione tecnica per evitare il miglior rispetto alla sostituzione. L'applicazione di RS bianco ha anche una funzione tecnica per evitare che la thousands saranno rispetto ai nostri diversistici. L'applicazione di QTS è una funzione tecnica per evitare che la 두� alreadyov doesn'tano trasagiare il miglior rispetto alla sostituzione. Grazie per la visione!